Partiamo da uno degli impegni che lei ha assunto in caso venisse eletto in consiglio regionale, farsi portavoce dei sindaci della provincia di Pado. Io ho intenzione proprio di fare questo, di essere un sindaco in regione che quindi periodicamente incontrerò i colleghi, porterò le loro istanze, i loro progetti e li accompagnerò attraverso i meandri della burocrazia regionale per risolverli. Lei ha sottolineato una differenza tra i suoi obiettivi, obiettivi politici e obiettivi amministrativi. Quali sono gli obiettivi politici? L'obiettivo politico primario mio personale sarà quello di portare il Veneto attraverso l'autonomia e quindi mantenere le nostre risorse qui per i nostri cittadini e non mandarle più a Roma a portare avanti il referendum sull'indipendenza che sarà poi l'obiettivo finale. Gli obiettivi amministrativi invece? Dalle opere pubbliche essenziali per la provincia di Padova e penso alla viabilità delle zone iniziali, ad esempio di Fontaniva, il collegamento delle cittadelle, gli incroci e le rotonde di Campo San Martino fino a Limena ma anche poi la legge regionale sulle città murate e quindi il restauro delle nostre città come Montagnana, come Este, Monsese e naturalmente Campo San Piero, Cittadella e Padova. Un altro punto in cima al suo programma è quello della sicurezza. Dobbiamo fare un collegamento unico che da tanti anni con l'acquistura di Padova attraverso la videosorveglianza da implementare assolutamente attraverso tutte le nostre città.